Il pranzo è quasi pronto. Ok. Alla prossima. Sì? È forse un appuntamento? No, mamma. Non lo è. Ti stai facendo troppo carina per un incontro senza importanza. Non era solo un fratello con cui fare due chiacchiere? Mamma, lo sai che cerco sempre di essere al meglio. Non conta dove o con chi vado. Mi piace essere carina. È un collega. Va bene, se lo dici tu. Grazie. 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 Grazie.